Per ben due volte si è reso protagonista della scena che state vedendo in questo video girato dalla Polizia di Stato. Nudo, urlando alla Akbar il grido dei terroristi jihadisti, correndo su e giù per Prato della Valle e tra i passanti. Fermato due volte dagli agenti della questura di Padova, ora è stato espulso dal territorio nazionale. Il provvedimento è stato firmato dalla questore organio Gianfranco Bernabèi. Bargawi Marwen, 22 anni, tunisino, è stato imbarcato e rispedito nel suo paese d'origine. Non potrà più rientrare in Italia.